mi manca vuole lei è qui lui è là allora la volta sì io la volpe Chiara la volpe Chiara ma io come passo da qua tu sei pazzo io continuo a andare io continuo a andare è qua dentro ma tirarlo fuori da qua posso avvicinarmi? posso avvicinarmi? sì si infatti si è spostato come si è spostato? e dove è andato? e dove? sotto i rovi camminando sotto i rovi lui l'ha visto uscire è andato avanti avanti ci ha fatto troppo se lo ruba no sa che lo rubavi se lo prendi e se ne va è andato avvicinarmi? 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 grazie grazie